Allora, buonasera. Ricompaio dopo un mese o più per il semplice fatto che ci sono state un po' di cose, siamo stati male e sinceramente sono arrivata alla fine della gravidanza che sono un po' provata. A parte la stanchezza, comunque, è pesante proprio. Chi ha figli, insomma, si ricorderà benissimo che è il periodo più pesante, è quello che praticamente non passa mai. Vi dico che sono praticamente all'ultima settimana, cioè in teoria fra cinque giorni io avrei finito il tempo. Però, cioè, sto terzo figlio praticamente sta tanto bene lì dentro che non ne vuole proprio sapere di uscire. Io sto facendo di tutto, cammino, di tutto, di tutto, di tutto, eppure non c'è verso, non vuole uscire. Quindi siamo ancora, siamo ancora piene, siamo ancora piene, però diciamo che non ho avuto, come dire, la voglia, mettiamola così, non ho avuto la voglia di mettermi a fare video, eccetera, perché veramente ero presa da tante, troppe cose. Quando non hai voglia, quando non ti senti, è inutile, cioè non verrà mai una cosa fatta bene. Quindi ho lasciato perdere, ho lasciato andare il tempo, proprio perché non aveva senso, a mio parere, farvi dei video dove si vedeva chiaramente che io non avevo nessunissima voglia di farli. Però era giusto darvi una spiegazione del perché sono scomparsa e finalmente diciamo che ho un po' più di voglia. Un po' più di, diciamo che la mia testa adesso sta un po' più in una fase di rassegnazione, di rassegnazione, di calma, insomma, ho un po' ripreso la mia calma, la mia testa, insomma, non è più piena di informazioni, di cose tutte strane. La mia testa non è più piena di pensieri, di pensieri che non mi fanno stare tranquilla e quindi ecco, sono qui a darvi questa spiegazione. E niente, quindi spero, spero da domani di riprendere un po' i vlog, perché fondamentalmente nel mio canale sto facendo quelli. E appunto incrociate le dita per me, cioè pregate veramente che succeda qualcosa nel più breve tempo possibile, perché io sono veramente arrivata e cotta in tutti i sensi. Poi in più adesso si avvicina il periodo di Natale, con la fine della scuola, con le recite dei bambini e tutto quanto, quindi potete capire che avendoci già altri due figli che devono fare le recite, devono fare l'esame di karate, cioè hanno una massa di cose da fare. Io adesso sono fino a fare l'esame di Natale, quindi niente, appunto vi ripeto, spero che questo breve video di 4-5 minuti abbia risposto diciamo a magari eventuali domande del che fine ha fatto? Che fine ho fatto? Siamo ancora qui ragazzi, non è successo assolutamente nulla, spero che succeda il prima possibile e niente, ci vediamo prossimamente, spero molto presto, però era doveroso farvi questa, darvi questa spiegazione. Ciao, a presto!